Ci siamo ragazzi, sono partito da pochi minuti, sono ancora alla stazione di servizio, ho fatto il pieno, ci ho controllato l'olio, sono pronto, parto oggi 4 gennaio 2013, tour delle americhe, che vi posso dire, non lo so, c'è talmente tanti chilometri che dovrò fare per arrivare a completare questo tour, non so quali saranno gli imprevisti, quali saranno le avventure, però una cosa è certa, dopo questo tour sbarco in Europa con la moto e ci si vede in Italia, perché sicuramente lì avrò modo di fare una sosta importante, ragazzi sentiamoci, mi scriverò più che posso, ho con me ovviamente tutto, blog, si blog, i computer, tutto, 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 non mi può vedere nulla ora perché ci ho messo mezz'ora per vestirmi, ho bevo un caffè, dopo ho fatto benzina e quindi vi mando un saluto così, poi vi faccio delle foto della giornata, ciao, partire per viaggio avventura dell'olio